Blitz antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, 105 kg di cocaina sequestrati. A finire in manette un 51enne incensurato di Sant'Antimo. È l'alba quando i carabinieri insieme alle unità cinofile entrano nella villetta di Cricignano di Aversa, dove l'uomo abita con la moglie. Nel garage una lavastoviglia ancora imballata. Non è vuota, al suo interno non ci sono piatti da lavare ma 50 pacchi di cocaina. Riportano diversi simboli, numeri e scritte e su qualcuno anche un luogo che richiama quello di un noto fast food americano. Le ricerche non terminano lì e poco dopo sotto una botola nel vano scale della villa ancora altra droga. 40 pacchi della stessa sostanza che porta il conto totale a 105 kg di cocaina pura, ancora da tagliare. Un bottino che sul mercato avrebbe fruttato circa 8 milioni di euro. L'ha arrestato e ora in carcere in attesa di giudizio. Grazie. 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 Grazie a tutti.